Musica Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel Territorio. Abbiamo il piacere di essere nella sede della CSV Belluno Treviso e incontriamo la neo eletta Presidente Elisa Corrà. Bentrovata Presidente. Buongiorno, buongiorno a voi, è un piacere. Grazie quindi per il tempo che ci dedica. Partiamo proprio da questo Presidente, la sua elezione è freschissima. Eh sì, esattamente così. Proprio poco dopo la metà di giugno, dello giugno scorso, c'è stata la nuova elezione di tutto il rinnovo del Consiglio Direttivo del CSV di Belluno e Treviso che ha visto per la prima volta la sua elezione diretta con i consiglieri. Ricordo che, come è già capitato nella tornata precedente, che era figlia dell'atto costitutivo di questo nuovo ente che è adesso il CSV Belluno e Treviso, abbiamo otto consiglieri come compagine. Io sono neo eletta Presidente per questo triennio che ci accompagnerà, quindi fino al 2025 e insieme a me sono stati eletti altri sette consiglieri, siamo otto in totale, quattro che sono spirito e riferimento del territorio della provincia di Belluno e quattro che sono in rappresentanza invece della provincia di Treviso. Quindi c'è una equiparazione diciamo tra le due province, nonostante comunque anche Treviso sia comunque più significativa come rappresentanza diciamo di popolazione. Certo, esatto. A questo pensiero è stato fatto e molto si è riflettuto proprio nella costituzione dello statuto e nell'elaborazione di questo nuovo ente per garantire una piena democraticità e rappresentazione di entrambe le province, avendo, come hai ben detto, molte più associazioni su un territorio perché è più popolato come è evidentemente Treviso, si è pensato di andare a mantenere una uniformità di numero di consiglieri proprio per garantire comunque che tutte le voci fossero rappresentate in un territorio che ora diventa davvero molto vasto come il CSV. Adesso che abbiamo unito le due province ci ritroviamo ad essere il CSV più grande del Veneto e quindi il territorio è veramente enorme e anche quindi la trattazione dei nostri servizi e come metterli al meglio a servizio delle associazioni ha necessità proprio di poter avere la rappresentanza piena di tutti quanti. Quali saranno gli obiettivi che guideranno il suo mandato, Presidente? Sì, allora, noi stiamo proprio lavorando in queste settimane perché sono poco più di due mesi che abbiamo preso l'attività a pieno regime quindi siamo in una fase di elaborazione proprio della strategia che ci immaginiamo essere quella utile, migliore, che può essere al servizio di tutti per questo triennio. Una analisi condivisa, una riflessione fondamentale da cui è necessario partire è proprio quello di fare una fotografia dei bisogni del territorio perché il CSV ha nel suo cuore, nel suo pieno delle attività come è riconosciuto dal Codice del Terzo Settore proprio quello di dare dei servizi specifici che possano essere di supporto e di aiuto a tutte le associazioni ma avendo a cuore soprattutto il beneficiario diretto che per noi è il volontario a prescindere da dove si trovi a essere volontario e quindi da quei bisogni noi dobbiamo costruire i servizi nuovi che magari il territorio richiede e anche capire dove c'è più bisogno e come intervenire di più per mettere a disposizione tutto il gruppo e il personale che lavora in entrambe le sedi in modo più efficace per rispondere proprio a quello che è la nostra missione che sono i volontari di fatto. Dal punto di vista comunque personale lei ha una lunga esperienza nel mondo del volontariato Presidente, diciamo qual è il suo auspicio comunque per questo ente che conosce profondamente? Allora il grande auspicio che ho personalmente è proprio quello di poter essere riconosciuti come osservatorio che può mettere a disposizione una capacità di analisi dei bisogni ma anche in maniera un pochino predittiva di quelle che saranno le emergenze nuove anche in termini positivi anche in termini collaborativi rispetto al territorio, alle associazioni e anche gli enti locali che nei territori si ritrovano ecco mi piacerebbe molto che se qualcuno dovesse pensare a chi posso rivolgermi per avere un quadro un'analisi di riferimento per quel che riguarda il terzo settore venga piano piano, sempre più automatico pensare di rivolgersi direttamente al CSV ecco questo mi piacerebbe molto questo adesso guardiamo un po', abbiamo ricordato quindi l'ente opera per entrambe le province però noi focalizziamo un po' più l'attenzione ecco sul territorio bellunese proprio perché giochiamo in casa Presidente qual è lo stato di salute del mondo del volontariato locale se dovesse dare così un'indicazione? Qual è? Allora la situazione nel nostro territorio chiaramente sconta ma questo lo è da sempre storicamente la frammentarietà del territorio stesso quindi dopo il Covid perché ormai siamo in una fase diversa è passato un po' di tempo c'è fortunatamente stata una ripresa delle attività e quest'estate come avete avuto modo un po' di vedere di aver visto tutti quanti noi nei territori c'è stata molta animazione molta ripresa anche di soprattutto di manifestazioni di eventi culturali o collegati quindi tutte le associazioni che hanno come propria missione proprio statuto propria destinazione insomma gli eventi le attività di questo tipo hanno ripreso in maniera molto pulsante positivamente ed è un bellissimo termometro di buona salute da questo punto di vista e anche le altre ma in particolare insomma queste si sono rinnovate hanno trovato anche la buona motivazione per ripartire c'è sicuramente però un dato di complessità che riguarda soprattutto il volontariato diciamo quello più classicamente inteso e dedicato all'ambito socio-sanitario sicuramente il volontariato che ha bisogno di più tempo e di più costanza che necessita di una costanza giornaliera su quello c'è un elemento critico che poi piano piano diventerà sempre più all'inizio delle nostre agende insomma di preoccupazione che è quello di trovare costanza e partecipazione anche in fasce d'età che non siano quelle over 65 c'è un po' un ricambio generazionale che è in corso e su questo andrà fatta un'analisi per quel tipo di associazioni che si occupano del socio-sanitario che sicuramente hanno questa necessità anche di essere più operative nel quotidiano e nell'infrasettimanale e capire anche però qual è il desiderio e la voglia in cui i giovani che comunque sono attivi sono cittadini attivi e sono presenti capire come andare incontro anche a quello che per loro è essere nella comunità che è un modo un po' diverso che magari non ha una continuità come l'abbiamo sempre immaginata e lì dobbiamo andare incontro noi e quindi le associazioni credo debbano fare anche una riflessione su come ritornare in comunità in sinergia con i propri cittadini che comunque sono notoriamente generosi e mettono volentieri a disposizione il proprio tempo quindi la sfida ci sta dicendo un pochino di riuscire ad agganciare sempre di più a coinvolgere sempre di più i giovani anche perché pensiamo che l'elemento del volontariato è un qualche cosa che anche in ambito professionale poi viene valutato comunque nei vari curricula quando si presentano le candidature giusto? esatto perché c'è un tema molto interessante forse magari poco percepito in alcuni casi che è proprio quello delle competenze delle skills che si possono mettere a disposizione anzi testare in qualche modo all'interno delle associazioni spesso magari si pensa che essere volontari voglia dire solo essere concretamente attivi in attività pratiche ma molto spesso anzi tante associazioni hanno bisogno anche di supporti su altri tipi di attività come possono essere non so aumentare la presenza sui social piuttosto che dare una mano sul fronte di nuove tecnologie ma anche altri temi e quindi ci si può davvero ritrovare avere l'occasione di mettere a regime le proprie competenze e ci sono tutta una serie di passaggi anche di certificazioni che si possono ottenere che danno poi valore aggiunto alle proprie esperienze che diventeranno nel futuro professionali questo sì è un aspetto importante da ricordare senta presidente sempre più comunque voi cercate di indirizzare le varie realtà le varie associazioni a fare gioco di squadra c'era un bando in particolar modo di coprogettazione che in qualche modo cercava proprio di fare questo giusto? esatto questo bando era uscito un po' di tempo fa ormai parliamo di più di un annetto fa era un bando di coprogettazione proprio per essere un po' al passo con quella che sarà la dimensione futura della progettazione per tutto il terzo settore che sarà sempre più organizzata con più soggetti quindi dagli enti locali al mondo del terzo settore stesso ed è un po' il futuro che andrà ad essere poi implementato questo bando ha ricevuto sei progettualità questo bando era dedicato proprio alla provincia di Belluno su Treviso ne era stato fatto uno un po' precedentemente e i progetti che sono stati ritenuti validi per avviare l'idea che avevano in cuore insomma di andare a esplicitare sono partiti effettivamente con quest'anno con il 2022 la coprogettazione approfitto per spiegare in questo caso in che cosa consiste vuol dire che anche il CSV non è passivo rispetto a questa cosa non ha solo analizzato i progetti e avvallato oppure richiesto correzioni sui progetti stessi ma è protagonista attivo coprogettante insieme alle associazioni per la realizzazione di queste attività quindi noi siamo in una sorta di lavoro condiviso con le associazioni insieme condividiamo i tempi di realizzazione dei progetti siamo più o meno perché non sono partiti tutti esattamente nello stesso momento ma al primo semestre di realizzazione delle attività un po' per quasi tutte le associazioni che vedono l'impegno su varie aree tematiche su cui si poteva scegliere di costruire una progettualità il lavoro è molto utile perché le associazioni diventa un modo per fare formazione attiva questa coprogettazione anche per imparare un pochino le tecniche che sono sempre più richieste la burocrazia comunque esatto perché in me in qualsiasi bando oramai dai regionali comunali e ancora di più diventa se sono quelli nazionali viene richiesta moltissima professionalità possiamo dire proprio così quindi rendi contazioni specifiche reportistica varia sia di avanzamento del progetto ma anche indicatori da raccogliere insomma viene chiesto molto e tendenzialmente questo è già nel presente insomma sarà sempre così quindi è un modo per fare anche formazione condivisione di esperienza soprattutto per le associazioni un po' più piccole che ovviamente vivono un po' di più lo scotto di doversi sentire un po' oberate anche nel dover fare questo e sono normalmente più abituate a stare nell'operativo e meno nel progettuale ma il CSV serve proprio a questo a fornire formazione e competenze alle associazioni questo corrae periodo di ripresa delle lezioni anche con il mondo della scuola ovviamente c'è una buona collaborazione c'è un'attenzione particolare dedicata ai giovani e quindi anche agli studenti certo uno dei cuori dei servizi del CSV è proprio di fare promozione per il volontariato e la promozione si declina chiaramente in tantissimi modi ma il modo elettivo con cui tutto il territorio prende questo questo incarico di fare promozione animazione per il volontariato è proprio attraverso gli incontri nelle scuole che adesso con il nuovo anno scolastico e l'inizio della scuola che più o meno sarà per tutti dal 12 settembre è stata proprio organizzata tutta una calendarizzazione degli incontri che verranno fatti negli istituti scolastici più o meno copriamo quasi tutti gli istituti anzi potrei proprio dire la totalità in cui abbiamo dei momenti di condivisione spieghiamo che cos'è il volontariato che cosa vuol dire essere cittadini attivi anche su questo fronte ed è ed è sempre molto bello per noi avere la possibilità di farlo il nostro personale è tutto altamente esperto ormai in questo e lo fa da tanti anni e c'è anche un bel ritorno è una bella sinergia che è in continuità e tra le tante progettualità ne citiamo qualcuna comunque adesso è uscita proprio in questi giorni la notizia della possibilità del nuovo bando per il servizio civile sì esatto cioè di nuovo si riparte anche con la possibilità di aderire al servizio civile che è proprio un'occasione unica per i giovani ragazzi per quello che dicevamo prima mettere un po' in campo le proprie competenze e avere l'occasione di testare anche dal vivo una realtà così particolare come è quella del mondo del volontariato nelle sue varie associazioni ci sono 24 posti disponibili quindi assolutamente c'è margine e anche accoglienza in una bella platea insomma di associazioni differenziate enti del terzo settore quindi uno può anche scegliere rispetto alle proprie inclinazioni l'invito che posso fare è quello di approfittare di questa occasione perché è molto arricchente e chiunque poi l'abbia portata a termine insomma può fare da testimonio al stesso di solito non sono mai esperienze che si dimenticano in fretta e che portano e danno tantissimo tra l'altro proprio qui giusto per concludere Presidente nella vostra sede in Via del Piave per i giovani insomma per gli studenti ma poi in realtà un po' per tutti c'è un particolare centro di documentazione dove si possono avere anche testi libri per mantenersi sempre aggiornati sui temi del volontariato esatto il centro di documentazione Anna Barlocher è proprio un altro elemento insomma fisso che rimane a disposizione del territorio e noi abbiamo una raccolta di volumi di letture anche di riviste dedicate al mondo del terzo settore quindi analisi diverse letture anche da saggi aggiornamenti specifici sono tutti a disposizione di chiunque voglia venire si può attivare un prestito per poter avere a disposizione i volumi che sono qui ne sono arrivati anche di nuovi da poco quindi vivamente anche qui l'invito è di utilizzarli di venire e sfruttarli anche sul nostro sito ci sono le indicazioni disponibili per capire come fare come accedere per la preannotazione sia venendo qui fisicamente in Viale del Piave 5 nei nostri uffici oppure anche contattandoci tramite mail e tramite internet Presidente il nostro tempo ormai si è concluso io le rinnovo gli auguri per un buon lavoro all'interno del CSV Belluno Treviso ringraziandolo ancora per il tempo che ci ha dedicato grazie a voi del vostro tempo e dell'occasione a presto senz'altro arrivederci a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto arrivederci a presto